La prima esposizione universale della storia venne organizzata a Londra nel 1851. Quattro anni dopo, la Francia volle seguire il medesimo esempio organizzando l'esposizione universale di Parigi del 1855. Per l'occasione diversi sovrani europei dell'epoca visitarono i padiglioni in cui erano esposte merci e prodotti legati ai temi dell'agricoltura, dell'industria e delle belle arti. Venne individuata un'area degli Champs-Élysées dove fu costruito il palazzo dell'industria e quello delle belle arti, oggi edifici non più esistenti. Diversi artisti dell'epoca esposero le loro opere dopo aver superato una rigida selezione da parte di una commissione. Eugène de la Croix espose il famosissimo quadro 28 luglio, la libertà che guida il popolo. Jean-Auguste Dominique Engre, invece, l'abbagnante di Valpinçon, e Giovanna d'Arco all'incoronazione di Carlo VII. Non ebbe la stessa sorte il pittore Gustave Courbet, che venendo rifiutato decise di esporre autonomamente nel cosiddetto padiglione del realismo, fatto costruire a proprie spese. L'esposizione richiamerà più di 5 milioni di visitatori.